319 milioni di investimenti in tre anni per rilanciare l'economia del Friuli Venezia Giulia, dalla sanità, le infrastrutture, l'indebitamento sano sostenuto da Fedriga si traduce mutui per progetti da avviare velocemente. In cinque anni nella nostra regione le nascite sono diminuite del 17% e sale da 30 a 32 l'età media in cui le donne friulane e giuliane diventano mamme, la conferma arriva dal report dell'Istat. Spettacolare cerimonia in volo all'aeroporto militare di rivolto per il cambio di comandante delle frecce tricolori, il tenente colonnello Mirko Caffelli ha ceduto il testimone al maggiore Gaetano Farina. Grande consenso per la raccolta fondi della Giant Rees Foundation per aiutare la montagna colpita dal maltempo, nella serie di Tarcento si possono acquistare punte di abeti abbattuti dal maltempo per farne alberi di Natale. Il tecnico del Carpi che l'ha lanciato conferma che lasagna rende meglio se è affiancato, ritiene ingiuste le critiche per la prestazione nazionale, non ha segnato dice ma ha saputo crearsi spazi. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Dunque nei prossimi tre anni la Giunta Fedriga investirà 319 milioni per rimettere in moto l'economia regionale. Saranno contratti mutui per un veloce avvio di progetti in settori quali salute, infrastrutture, attività produttive, protezione civile. Un maggiore indebitamento pubblico non è un fattore negativo se permette di generare investimenti e crescita economica. Negli ultimi tempi il presidente della regione Massimiliano Fedriga lo ha ripetuto più volte. Parole che la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2019-2021 traducono in cifre precise. Investimenti per 319 milioni di euro in tre anni tramite la contrazione di mutui per rimettere in moto l'economia regionale, come spiega l'assessore alle finanze Barbara Zilli. La Giunta Fedriga ha deciso di investire 319 milioni di euro nel triennio per opere importanti per il rilancio del nostro territorio regionale. I principali settori di intervento riguardano la protezione civile, la sanità, l'ambiente, l'agricoltura, le infrastrutture, le attività produttive e l'impiantistica sportiva. Ci sarà una parte dedicata anche agli enti locali i quali attraverso le intese con la regione potranno davvero trovare una regia unica per sviluppare i loro progetti. Noi crediamo che il trend della nostra economia debba continuare a tenere in un momento nel quale partner molto importanti come la Germania danno segnali di arresto. Per fare questo ovviamente noi ricorriamo al mercato e quindi pensiamo di poter contrarre mutui su quegli importi per il triennio, come è stato detto, andando a dare una risposta che però sia efficace nell'utilizzo delle nostre risorse per migliorare l'economia della nostra regione. Nello specifico 75 milioni andranno alla salute, 70 alle autonomie locali, 65 alla protezione civile e 25 sia alle infrastrutture che alle attività produttive. E proprio misure e risorse che puntino alla crescita dell'economia fanno parte delle richieste che Confindustria Udine ha presentato alla giunta regionale. C'è stato un incontro a Palazzo Torriani, un metodo di lavoro condiviso, il dialogo continuo e come obiettivo comune la crescita e il lavoro. Ruotato attorno a questi cardini l'incontro a Udine tra Anna Mareschi Danieli, il presidente di Confindustria Udine e il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ospitato a Palazzo Torriani per un confronto sui temi di politica industriale. Senza imprese non c'è sviluppo, non c'è lavoro, non c'è inclusione sociale, ha affermato Mareschi Danieli, ricordando che Confindustria Udine alla vigilia delle ultime elezioni regionali ha elaborato un documento programmatico a medio termine con proposte puntuali. Alla politica non chiediamo soluzioni immediate, ha affermato Mareschi Danieli, ma una visione di medio e lungo termine che ci guidi verso la crescita. La presidente ha poi sottolineato la preoccupazione degli industriali friulani per alcune scelte compiute dal governo nazionale. Se si fa maggiore deficit per avere più risorse a disposizione, queste devono essere destinate alla crescita, ha detto. Il nostro obiettivo, ha concluso Mareschi Danieli, è la costruzione di una regione innovativa, sostenibile, inclusiva, più friendly per chi fa impresa, più appetibile per i talenti, più forte economicamente. Il friuli Venezia Giulia deve coltivare l'ambizione ad essere il primo della classe, una regione modello. Un appello questo, raccolto e condiviso dal governatore Fedriga, sia nel metodo sia nel merito. Avremo successo soltanto se facciamo squadra e ci diciamo le cose, ha affermato Fedriga per questa ragione. Abbiamo avviato questa legislatura all'insegna dell'ascolto delle categorie. Fiscalità e occupazione al centro degli incontri che Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha avuto oggi a Pordenone. Tasse da ridurre, infrastrutture moderne, più posti di lavoro da creare al posto del reddito di cittadinanza per sostenere le famiglie. Questi i temi principali toccati dall'onorevole Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, nell'incontro con le categorie economiche e le istituzioni del friuli occidentale. Siamo già molto mobilitati sia sul tema delle infrastrutture che sul tema delle tasse. Le nostre proposte alla manovra economica sono moltissime. Sul tema delle tasse la più famosa è quella di una tassa piatta sui redditi incrementali, cioè di una tassazione fissa al 15% su tutto quello che si dichiara in più rispetto all'anno precedente. Io penso che la rabbia, la delusione che stiamo raccogliendo alle categorie produttive sia assolutamente ben riposta, perché guardare qui in faccia un imprenditore che lavora 18 ore al giorno per cercare di pagare gli stipendi, arrivare a fine mese, che deve anche stare lì adesso ad avere il terrore dell'obbligo della fatturazione elettronica che ti entra in vigore al gennaio 2019, come se non ci fosse una differenza tra le grandi aziende quotate in borsa e la piccola azienda, magari per pagare il reddito di cittadinanza, io capisco che fa arrabbiare. Sul tema pensioni la Presidente di Fratelli d'Italia non ha dubbi. Siamo favorevoli a quota 100, non siamo favorevoli al fatto che valga solo nel 2019. Il partito intanto scalda i motori in vista delle elezioni europee del prossimo anno. Se noi riusciamo a crescere, a fare un risultato importante, nel giorno dopo c'è una maggioranza per fare un governo diverso. Che tipo di Europa sogna? Io sogno una confederazione di stati liberi e sovrani che cooperano sulle grandi materie e che mantengono la loro sovranità, la loro libertà. E sul decreto sicurezza, giudicato un primo passo, secondo la Meloni si poteva fare di più. L'abbiamo votato, Fratelli d'Italia ha sostenuto il decreto sicurezza, imperfetto. Purtroppo Salvini dovendolo mediare con quelli del Movimento 5 Stelle, che sono sostanzialmente di sinistra e quindi su questi temi sono schierati sostanzialmente con il PD, ha annacquato un po' la cosa. Delle volte la Ruspa era un po' più scopa e paletta. Chiedevamo più pene, più serie per chi aggredisce le forze e l'ordine, lo sgombero di tutti i campi Rom, l'introduzione del nostro ordinamento del reato di integralismo islamico. Insomma, molte proposte in cuor suo condivise anche dalla Lega. Purtroppo non è stato possibile discutere. Fincantieri realizzerà un ponte sul Danubio in Romania. Lungo due chilometri, con oltre un chilometro in campata unica per la parte centrale, lo ha annunciato Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri. Oggi a Marghera la presentazione della Usteddam, nave da crociera di 99.500 tonnellate di stazza. Il ponte sospeso, quanto a campata centrale, sarà il più lungo della Romania e il terzo in Europa. Fincantieri utilizzerà il cantiere di Braille, a pochi chilometri dai lavori, in collaborazione con a stade la giapponese Ihi. Bono ha ricordato poi come Fincantieri, sposando il progetto di Renzo Piano con Salini in pregillo, è pronta a candidarsi alla sostituzione dell'ex ponte Morandi a Genova, utilizzando, ha detto Bono, il meglio della tecnologia e delle competenze italiane. E siamo alla cronaca tragedia nei boschi di Padriciano, a Trieste, dove un uomo di 58 anni, residente nel capoluogo Giuliano, è morto colto da un infarto mentre era a caccia con un amico. Inutili i soccorsi, il medico non ha potuto far altro se non constatare il decesso e ha un nome, la Salma, recuperata ieri sempre a Trieste ai piedi di una profonda scarpata vicino alla strada napoleonica. Si tratta di Vili Rasman, un 49enne che era scomparso dalla sua casa di Trieste qualche giorno fa. Grave infortunio sul lavoro ad Azzano Decimo, dove un giardiniere di 27 anni è caduto da un albero da 8 metri d'altezza mentre stava putando una pianta nel parco di una villa. Soccorso dal personale medico dell'elicottero, è stato rianimato e trasportato all'ospedale di Udine. Il giovane C.M. Le iniziali di Vittorio Veneto, dipendente della ditta ecosistema di Treviso, è in grave pericolo di vita. Sul posto il servizio di prevenzione dell'azienda sanitaria 5, i carabinieri di Azzano, per fare chiarezza sulle cause dell'infortunio. Prima scoprono un'area lungo il tagliamento usata per la coltivazione di cannabis e poi identificano il responsabile della cultura illegale che viene denunciato a piede libero per produzione di sostanze stupefacenti. A finire nel mirino della polizia ferroviaria di Gemona è stato un uomo di 31 anni dell'Alto Friuli. Perquisito è stato trovato in possesso di piante di marijuana, semi, manuali per la coltivazione e di una serra artigianale completa di lampade, ventole e aspiratori. L'indagine della polferse è sviluppata tra la Pede Montana e la Val Canale fino ad arrivare alla casa del 31enne. Due gravi incidenti stradali sono accaduti a distanza di quattro ore l'uno dall'altro sulla Statale 13 a Basiliano. Due le persone ferite gravemente, entrambe portate in ospedale in elicottero. Due gravi incidenti si sono verificati lungo la Ponte Banna a Basaglia Penta di Basiliano. In entrambi i casi sono intervenuti l'aliambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. In entrambi i casi si è trattato di una foruscita autonoma di automobili che sono finite cappottate nel fossato. Gravi due conducenti liberati dai pompieri portati in ospedale in condizioni molto serie. Ruba i soldi dai portafogli delle cassiere nel loro spogliatoio al Market Connade di Bio Vittorio Veneto a Udine, ma viene immortalato dalle telecamere della videosorveglianza. Così il ladro un 32enne di etnia Roma che vive in città è stato denunciato per furto aggravato dai militari dell'arma. Quattro persone di etnia Roma, tra cui una minorenne, sono state denunciate dai carabinieri di Udine per truffa in concorso per due distinti episodi. In un caso hanno finto di vendere un'automobile a un uomo di San Daniele. Ottenuti 10.000 euro in contanti come pagamento non hanno mai consegnato la vettura. In un altro caso stesso copione ma con un anticipo sempre di 10.000 euro in contanti ottenuto da un pensionato che voleva comprare casa baldasseria. Immobile, poi mai visto, né ottenuto. Finisce male una dita tra automobilisti scoppiata lungo la Ponte Banna, trecesimo, tra un ragazzo di San Daniele e uno di Tercento. Prima un vivace scambio di brutte parole, poi il tercentino ha inseguito l'altro automobilista. Lo ha costretto a fermarsi e poi ha riempito di calci e pugni la sua macchina. I carabinieri lo hanno denunciato per violenza privata e danneggiamento. In fortuna in chiesa Tervisio dove una professionista del centro montano di 40 anni di età che stava eseguendo un recupero artistico nella chiesa di Camporosso per conto della parrocchia è caduta dall'imparcatura del luogo sacro, la chiesa di Santa Dorotea. La restauratrice è stata soccorsa prima dal collega e poi portata in ambulanza nel poliambulatorio di Tervisio. Le è stato riscontrato un trauma cranico ed è stata dimessa dopo un breve periodo di osservazione. Attenzione alle truffe della lettura della mano a San Daniele del Friuli dove un cittadino che vive nella zona dei prosciuttifici ha segnalato ai carabinieri la presenza di due donne di etnia Rome di circa 40 e 60 anni accompagnate da un ragazzino di circa 6-7 anni. Sono nei campanelli delle case con la scusa di leggere la mano e di predire il futuro in cambio di soldi. Potrebbe trattarsi di malintenzionate che poi truffano e raggirono gli anziani o le persone in buona fede. Chi ha sospetti deve chiamare subito il 112. Blitz della Polizia Locale dell'Atera a Monfalcone per sgomberare una palazzina occupata abusivamente. Sono iniziati lunedì e proseguiti oggi i blitz contro le occupazioni abusive di alloggi di proprietà comunale e gestione Ater nel rione di Panzano a Monfalcone. Gli agenti della Polizia locale con il comandante Rudy Bagatto, i tecnici Ater e il sindaco Anna Cisint si sono ripresentati nel condominio Gioconda, il palazzo di Vajacosulici 119, per ultimare gli sgomberi iniziati nei giorni scorsi in due alloggi della scala destra e procedere con un nuovo sgombero in un alloggio nella scala sinistra. È stata una soffiata a indirizzare comune Ater nel palazzo di Panzano, anche se forse ormai da tempo era noto che le situazioni abitative non erano del tutto regolari. Vogliamo lanciare un chiaro messaggio in questo comune. Non paga essere più furbi degli altri. Stiamo sgomberando le occupazioni abusive negli alloggi di proprietà, ripristinando così le situazioni di legalità. Nel contempo, ha sottolineato il sindaco, ristruttureremo queste abitazioni per rimetterle in utilizzo. Per troppi anni sono stati tollerati i comportamenti illeciti, mentre i cittadini regolari attendevano nelle graduatorie Ater. E l'impegno del sindaco e degli amministratori è proprio quello di procedere alla ristrutturazione degli alloggi, che sono ampie e luminosi, per darli a chi davvero ne ha bisogno. Perché in effetti l'impressione è che chi occupa non siano persone in stato di indigenza, continua il sindaco. Possiedono un'automobile, hanno cellulari. Ater, d'altro canto, sta già provvedendo ad una stima degli interventi necessari per sanificare e rendere abitabili i vani. A Monfalcone sono già sei i casi di occupazione abusive risolti nel corso del 2018, ma secondo quanto riferito da Ater esisterebbero ancora due casi da affrontare. Il problema è che spesso anche chi nota movimenti strani non segnala e ciò complica poi l'intervento. Concludono. Reato estinto per una delle due giovani ritenute responsabili dell'omicidio del ferroviere udinese, Mirko Sacher, ucciso nell'aprile del 2013. Dal diritto di Mirko Sacher sono passati cinque anni e mezzo, ma quella storia di cronaca nera fa segnare una nuova pagina, ovvero l'estinzione del reato per una delle due ragazzine accusate dell'omicidio del ferroviere in pensione, ucciso nelle campagne di via Butrio a Udine. Oggi le due ragazzine hanno entrambe 21 anni, erano difese rispettivamente dagli avvocati campo e dai legali udinesi Federica Tosella e Luigi Rossi. All'epoca dei fatti, dopo le indagini a essere ritracciate, le due giovani che assieme avevano incontrato Sacher uccidendolo, erano state colpite da custodia cautelare e accompagnate del villaggio del fanciullo. Successivamente erano state separate dopo la decisione del centro per la giustizia minorile, rispettivamente in struttura Bergamo, l'altra a Padova. Dopo l'udienza preliminare c'era stata la messa alla prova, le ragazze dovevano dare dimostrazione di comportarsi bene frequentando la scuola, attività di volontariato. Per una di loro il comportamento è stato ottimo e quindi la prova è stata superata e così dopo l'udienza di verifica il reato è stato giudicato istinto. La giovane ha frequentato un corso per estetista, lavorando poi come cameriera. La sua amica invece si è vista prolungare il periodo di prova, dunque è ancora sotto esame. Nel caso della prova superata il reato non compare nel casellario giudiziario, potrebbe riemergere nel caso la giovane faccia tirare su di sé l'attenzione per qualche comportamento scorretto, ma in questo caso il suo passato potrebbe riemergere ed essere di fatto riportato a galla dall'autorità giudiziaria, ma per vie interne. Insomma, un brutto fatto di sangue che ha avuto un lieto fine. Un rapporto dell'Istat conferma quanto in fondo già sapevamo. Il friuli invecchia, calano, crollano davvero le nuove nascite e le donne friulane e giuliane diventano mamme per la prima volta mediamente a 32 anni. L'Italia invecchia e il friuli Venezia Giulia non è un'eccezione. La conferma arriva da un report diffuso dall'Istat che, senza mezzi termini, certifica che il calo della natalità avviata dalla crisi economica del 2008 è diventato strutturale. Anzi, per la prima volta in Italia il numero dei nati è inferiore a quello degli ultraottantenni. Nel corso del 2017 in Italia sono nati 458.151 bambini, oltre 15.000 in meno rispetto all'anno prima. Nell'arco di tre anni, dal 2014 al 2017, le nascite sono diminuite di circa 45.000 unità e addirittura di 120.000 unità rispetto al 2008. Non diversa è la situazione del friuli Venezia Giulia. Nel 2017 sono nati 8.123 bambini, 353 in meno rispetto agli 8.476 dell'anno prima. Un trend in discesa costante, almeno a partire dal 2012, quando i nati furono 9.824, il che vuol dire che in soli cinque anni, dal 2012 al 2017, il numero dei nuovi nati in regione è crollato di ben 1.701 unità, oltre il 17%. In netto calo anche il numero medio di figli per donne, in età fertile, fra i 15 e i 49 anni. Dopo il minimo storico del 1995, quando in regione nacquero 950 bambini ogni 1.000 donne, c'è stato un andamento in crescita fino al 2010, anno nel quale c'è stata un'inversione della tendenza. La fecondità delle donne, che vivono in friuli Venezia Giulia, è tornata a scendere, fino ai 1.306 nuovi nati ogni 1.000 donne. E a tenere sulla media sono le donne straniere, con 2.010 nati ogni 1.000 donne, contro i 1.190 nuovi nati delle donne giuliane e friulane. In questi anni in regione, si è intanto impennata l'età media delle mamme, che nel 1995 era di 30 anni e mezzo, mentre nel 2017 è arrivata a 32 anni. Infine, una curiosità. In friuli Venezia Giulia, fra i nuovi nati, il nome maschile più frequente è Leonardo, quello femminile Sofia. Dipendenti di Unicredit verso lo sciopero. I dipendenti di Unicredit scenderanno in piazza domani a Monfalcone e il 3 dicembre a Trieste, in segno di protesta contro il piano industriale del gruppo. Oggi, nel corso di una conferenza stampa a Trieste, hanno illustrato le ragioni che li hanno spinti a indire le due giornate di sciopero e i cinque giorni di blocco degli straordinari. Nonostante la sensibile decurtazione che la stensione comporterà sulla retribuzione, sindacati e lavoratori, in occasione dello sciopero, hanno deciso di devolvere il corrispettivo d'un'ora di lavoro a favore delle popolazioni colpite dalla recente ondata di maltempo nella nostra regione. Come ci spiega il segretario della First CISL, Roberto De Marchi, la fuoriuscita dei lavoratori tramite gli esodi incentivati non è stata bilanciata da nuove assunzioni. Dall'osservatorio dei sindacati emerge che la situazione è particolarmente pesante, soprattutto nelle province di Trieste e Gorizia, dove negli ultimi sei anni c'è stato un calo di addetti pari al 33% che si è acuito nell'ultimo biennio, raggiungendo il 20%. Secondo i sindacati, la carenza d'organico non solo mette in difficoltà i dipendenti, ma soprattutto si riverbera nel rapporto con la clientela. Tutto questo avviene, spiegano in una nota i sindacati, mentre l'aumento dell'utile delle cinque maggiori banche italiane risulta decuplicato rispetto al 2017, anche per effetto della contrazione dei costi del personale e della chiusura di oltre 1.300 sportelli in tutta Italia. Il Consiglio di Amministrazione di Intesa San Paolo ha deliberato la designazione dei componenti del Consiglio del Territorio del Friuli Venezia Giulia, che avrà un ruolo di raccordo con il territorio di riferimento e compiti di natura consultiva nei confronti principalmente della Direzione Regionale Veneto Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, la cui responsabilità è affidata a Renzo Simonato. A farne parte Paolo Comolli, presidente dell'organismo, Mario Emilio Cicchetti, Vittorio Di Marco, Andrea Felluga, Mauro Fioretti, Clara Maddalena Fontanelli, Massimo Giordano, Enrico Samere, Stefano Ruffo. È stata inaugurata oggi a Meretto di Tomba la nuova centrale idroelettrica del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Taglio del nastro in località Castelliere a Meretto di Tomba della nuova centrale idroelettrica del Consorzio Bonifica Pianura Friulana. A illustrare l'impianto Molino Bunello è stata la presidente Rosanna Clocchiatti. È un sistema assolutamente importante perché fa parte di un piano molto più ampio, un piano energetico del Consorzio Pianura Friulana. È un piano che è partito ancora prima della fusione dei due consorzi del 2015 e quindi è un piano che ha visto varie fasi. Nella prima fase la realizzazione di centraline anche importanti, penso Pannelli, Appiantianicco, anche qua a Meretto e la realizzazione anche dell'impianto dove siamo qua oggi con proprio la necessità di creare dove già c'erano delle realtà naturali la possibilità di creare energia. Quali sono le caratteristiche tecniche di questo nuovo impianto? La potenza di concessione è di 57 kW. In realtà ci attendiamo una potenza media di 40 kW che serve ad alimentare mediamente 13 utenze domestiche. Dopodiché la produzione complessiva hanno stimato di 215.000 kWh e quindi pensiamo di recuperare l'investimento in una dozzina d'anni. Noi come Regione riteniamo non solo di sostenere queste ma anche di aumentare gli investimenti perché il compito della Regione è quello di creare le condizioni perché sempre di più ci sia una produzione agricola di qualità e anche in termini di valore aggiunto creato. Oggi ha rivolto cerimonia in volo per il cambio del comandante della pattuglia acrobatica nazionale. Spettacolare passaggio di consegna al comando delle frecce tricolori durante un volo di addestramento della formazione. All'aeroporto militare di rivolto sede storica delle frecce fin dal 1 marzo del 1961 il tenente colonnello Mirko Caffelli, comandante in carica del 313esimo gruppo addestramento acrobatico ha ceduto il comando al maggiore Gaetano Farina, attuale capo formazione che diventa così il 23esimo poni zero della pattuglia acrobatica nazionale. Far parte dell'aeronautica militare, far parte delle frecce tricolori, assumere il comando è il coronamento di un sogno che si è realizzato. Personalmente è un cambio di prospettiva, si passa dal volo alla gestione a terra, non solo del volo ma anche di tutto il personale. Io spero di fare almeno bene quanto ha fatto il mio precessore, il tenente colonnello Mirko Caffelli. Diciamo che se è chiuso un capitolo della mia vita, se ne apre un altro, spero che mi dia le stesse soddisfazioni anche se ho qualche dubbio perché arrivare alle frecce tricolori le soddisfazioni sono state tantissime. Una squadra vincente, come si dice in termini calcistici, squadra che vince non si cambia, quindi abbiamo cambiato l'allenatore, in questo caso il comandante, ma sicuramente vogliamo continuare con la nostra squadra, con le frecce tricolori da qui in avanti. Sì, è un orgoglio di questa terra ed è testimoniato non soltanto dalla vicinanza delle istituzioni ma devo dire dalla partecipazione di tutti i cittadini che tifano frecce tricolori. Se siete alla ricerca di un albero di Natale, volete aiutare le popolazioni colpite dal maltempo, c'è un'iniziativa che forse fa il caso vostro. A Natale fai crescere un nuovo bosco. Con questo motto l'associazione Giant Rees Foundation di Tarcento ha pensato ad un'iniziativa per sostenere le popolazioni colpite dal maltempo e insieme le foreste devastate dalla stessa calamità. Le punte degli abeti caduti sono state raccolte nei boschi e portate nella sede dell'associazione a disposizione di chi, a fronte ad un'offerta, vorrà farne il proprio albero di Natale. Abbiamo pensato una goccia nel mare di andare a recuperare le punte degli alberi caduti e abbiamo pensato appunto il modo di poter aiutare queste popolazioni anche appunto cercando di salvare quel poco che si può salvare. Siamo vicini alle festività natalizie appunto e abbiamo detto recuperiamo queste punte, questi abeti che si possono recuperare per fare gli alberi di Natale, quelli che non si possono recuperare i rami appunto facciamo delle composizioni natalizie. Cerchiamo di fare, istituire una raccolta fondi con questi prodotti e con la raccolta fondi poi andare a creare o a ricreare dei boschi che effettivamente possano, io li ho chiamati dei boschi sperimentali che possano poi servire per imparare come creare un bosco che resista poi a questi eventi che purtroppo io penso saranno sempre più frequenti. Chi vuole acquistare queste punte può venire da noi in realtà nelle ultime due ore della mattina quindi dalle 10 a mezzogiorno, Tarcento in via Pontebana 64 però adesso appunto anche il centro commerciale Città Fiera ci dà una mano e quindi ci ha dato uno spazio proprio per portare un po' più vicino appunto alla popolazione queste queste punte, queste composizioni fatte da tutta una serie di volontari anche nelle scuole. La cosa più importante è secondo me l'educazione, dobbiamo imparare da questi eventi. Come da tradizione l'Udinese è salita a Castelmonte, nel gruppo c'era anche Paraun Pozzo, sentiamo che cosa ci ha raccontato. Vedo che insomma la volontà e la squadra c'è e quindi c'è voglia di riscatto e non abbiamo mai messo via noi la voglia di tornare in Europa e quindi lotteremo finché torneremo un'altra volta a riguadagnare quei posti che per diversi anni abbiamo ottenuto e quindi il desiderio è sempre quello di far bene, di raggiungere obiettivi non di salvezza ma d'Europa perché altrimenti non ci divertiamo. Contro il Sassuolo potrebbe rientrare Kevin Lasagna, di lui abbiamo parlato con Fabrizio Castori, allenatore del Carpi che per primo gli aveva pronosticato un futuro in azzurro. Mister Castori, tema Lasagna, tanti non sono d'accordo sulla chiamata di Mancini, la merita invece Lasagna, la maglia azzurra? Assolutamente sì, poi non sono d'accordo con chi ha criticato Lasagna nella partita contro gli Stati Uniti, era l'unico giocatore che attaccava la profondità, quindi poi ci sta che possa sbagliare, però non sono d'accordo con chi lo ha criticato per l'esecuzione sicuramente non esatta, non giusta, non incisiva, però comunque lui ha questa peculiarità che ne fanno un grande attaccante secondo me e quindi gli va riconosciuto almeno la peculiarità di essere bravissimo ad attaccare la profondità. Lui avanti al potere c'è arrivato, altri non ci arrivano nemmeno avanti al potere. Lui ha delle caratteristiche uniche secondo me degli attaccanti che ci sono in Italia, quindi va su top quello che è, è un giocatore unico il panorama che ha gestito italiano, quindi va… Sfruttato nel modo giusto. Esatto, secondo me c'è. Se gioca a coppia è meglio, perché comunque lui che attacca alla profondità, se ha un altro compagno di reparto che gli possa aiutare nell'aprire della linea intensiva avversaria, è chiaro che ne dà dei benefici, però può giocare anche da prima punta, poiché venga sottato nell'attaccare lo spazio che è la sua caratteristica peculiare. Lui ragazzo di provincia, ragazzo sano, ragazzo serio, ragazzo anche buono, ingerno se vogliamo, non è un presuntuoso, non è uno che si monta la testa, ragazzo unico, ragazzo a posto. L'emergenza a profughi, l'accoglienza dei richiedenti asilo e il bando che prevede una loro ridistribuzione nel territorio provinciale, saranno alcuni dei temi al centro della puntata di questa sera di Screenshot, la trasmissione condotta da Davide Vicedomini in onda a partire dalle 19.45 in studio Fabio Di Lenardo, direttore del Comitato Provinciale di Udine della Croce Rossa. Noi ci fermiamo qui, buon proseguimento di serata su Telefriuli, arrivederci. Grazie a tutti.